Innanzitutto permettetemi di presentarmi, io sono Phil Zimmerman, come forse alcuni di voi sanno sono un criptanalista. Noi costruiamo messaggi cifrati e dunque siamo anche in grado di decifrarli. Sveleremo il significato segreto di questa mostra. Siamo gli agenti David Lindo e Daniel Lindo, gemelli etero zigoti. Ci dispiace avermi interrotto. Prenda un gesto e delimiti il corpo. Vuole malta? Faccia in fretta. Una linea evidente signorina. Abbiamo un morto, un aperitivo avvelenato, due forti sospettati e molti, molti testimoni. Giù è voi. Ha osservato la mostra e lei ha risposto sì. Molto interessante. Bene, grazie. Perché avete ucciso il signor Zimmerman? che mi dita lei? Lei? Come si sente? Un po' caldo. Da quel momento io gli ho sempre dato tutto. Ma non è tutto qui, ispettore, no? Ho il po' di pietra. Lei? Ho visto la faccia? E allora, signori? Non ci faranno un dato. Ma come cazzo parli, Frank? Io sono tipo passivo, va bene? E allora mi metto con delle compagnie aggressive. Ma questo non mi fa bene. Poche storie, fratellini. Non mi incantate con la vostra parlantina? Alla quicuo? Ma alla quicuo? Alla cipciò. Alla cipciò, ma avete capito? Qual è il nome in codice della sua missione? Serpente. Serpente! Queste. 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 So. Queste. 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 Queste in America. Grazie a tutti.